Ciao! Allora, guarda, su questa valigetta ci sono quattro chiodi, su uno solo di questi chiodi è appeso un premio niente niente male. Allora, tu dovrai scegliere uno di questi quattro chiodi, uno alla volta, e se vedrai qualcosa cadere, quello sarà il tuo premio. Ok! Vai! Quali scegli? Nero! Nero, nero! Poi? Eh, quale, quale? No, ce l'ho io! Eh, vai! Verde! Verde! No? Attenzione, perché sono rimaste due possibilità, quale vuoi scegliere? Scegli il giallo, scegli il giallo, scegli il giallo. Il giallo hai detto? Giallo ho detto! No? No, scegli il blu, ti prego. No, è giallo! Ti ho impensato talmente tanto che mi hai lasciato i 20 euro sul chiodo blu. 20 euro sono i nuovi miei.